Tessera Nel 87 avevo 9 anni, una nuova famiglia e sperimentavo per la prima volta la vita in campeggio. Eravamo in Toscana e anche all'epoca si organizzavano attività rivolte esclusivamente ai bambini e io e mio fratello eravamo risultati vincitori di un improbabile carnevale estivo. Io vestita da vaiana con il foulard di mia zia e mio fratello da samurai con la camicia di mio cugino. L'animatore per premiarci ci ha invitato e si è rivolto a me con l'amorevolezza a cui ci si rivolge normalmente ai bambini e mi ha chiesto di dove sei? Di Roma gli ho risposto io molto candidamente suscitando la sua ilarità e di tutti quelli presenti all'interno del campeggio che partecipavano a questa iniziativa. Allora lui addolcendo il tono di voce come se da quello dipendesse la mia risposta ci riprova e mi dice sì certo ma da dove vieni? Eravamo in Toscana ricordate? Per cui io sempre più candidamente da Roma. Lui sorride e ci riprova una terza volta ma non capisce e neanche io capisco. Ecco ho voluto iniziare da un aneddoto per parlarvi di una delle sfide più importanti che ci consegna la globalizzazione, la convivenza. Negli ultimi anni io mi sono occupata di accogliere, orientare e informare un gran numero di ragazzi provenienti prevalentemente dal corno d'Africa e anche di sensibilizzare i miei attuali concittadini ai temi delle migrazioni milanesi di origine, di adozione come me e di passaggio. Ecco, quell'esperienza, anche quell'esperienza mi ha aiutato a comprendere che le immagini che vengono utilizzate per raccontare oggi e anche ieri i fenomeni migratori non ci aiutano a proiettarci nel futuro. Per questo voglio fare un esperimento insieme a voi. Proviamo a chiudere gli occhi. Quando pensate all'immigrazione oggi, quali immagini vi vengono in mente? Ci sono immagini più ricorrenti di altre? Vedete delle persone? Riuscite a distinguere i volti di quelle persone? A comprendere che ciascuna di loro ha delle attitudini personali? Riuscite a comprendere le loro storie individuali? A comprendere che possono avere bisogni differenti? Aprite gli occhi. Erano barche? Tende? Muri? Fili spinati? Masse indistinte di persone? Ecco, quelle immagini schiacciano il nostro sguardo su un eterno presente, uguale a se stesso da decenni. Ed è per questo che non utilizzerò immagini oggi, ma solamente parole per raccontarvi la mia idea. Le parole qualcuno diceva che erano importanti. E utilizzerò le parole per provare a costruire insieme a voi un nuovo immaginario. Sono convinta che chiunque di voi abbia avuto la possibilità di viaggiare e visitare altre città sa come riconoscere un luogo accogliente. E non solo per il grado di simpatia dei cittadini, ma anche e soprattutto grazie all'accessibilità dei servizi e delle informazioni disponibili in città. Accessibilità che passa anche attraverso l'utilizzo di una lingua di uso comune. Ecco, comprendere le informazioni e poter così accedere ai servizi rappresenta il primo passo per un progressivo processo di integrazione e inclusione sociale. Per iniziare a sentirsi parte, soprattutto nelle città. Perché è nelle città che gran parte degli immigrati, quando ha la possibilità di scegliere, risiede, preferisce risiedere. Perché è nelle città che possono trovare lo spazio fisico e sociale per accedere più facilmente alle reti di sostegno, sia dei connazionali che degli autoctoni, e avere così maggiori opportunità dalla formazione al lavoro. Ed è per questo che bisogna partire dalle città. Gli spazi innanzitutto, gli spazi pubblici. Perché gli spazi pubblici? Perché sono preziosi, sono diffusi, sono disponibili, sono accessibili, sono gratuiti, spesso sono anche belli e accoglienti, pensate ai parchi urbani o ad alcune piazze, e rappresentano la possibilità di incontro per molti. Soprattutto le persone che vivono in periferia, generalmente più poveri, spesso immigrati e ancora più spesso richiedenti asilo. Ecco, immaginate una strada, una strada in cui il passaggio è molto frequente. Potrebbe essere dotata di segnaletica, una comunissima segnaletica stradale, oppure di display digitali, dei più evoluti display digitali, in cui è possibile accedere a tutte le informazioni di cui si ha bisogno per muoversi in città, in più lingue soprattutto. Gli spazi pubblici, i parchi urbani e le piazze potrebbero essere tutti dotati di rete wifi, in modo che tutti possano avere sempre la possibilità di accedere alle informazioni, e tutti, non solo gli immigrati. Immaginate un quartiere, un quartiere che è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di culture, potrebbe dotarsi di operatori transculturali, che facilitino la comunicazione tra i residenti, tutti i residenti. Quelli di oggi, quelli di ieri, quelli di domani. E immaginate che le istituzioni pubbliche attivino campagne di ascolto periodiche, attraverso cui monitorano la qualità delle relazioni tra le persone, attraverso appositi questionari, che aiutino anche al dialogo, al confronto. Immaginate che luoghi di aggregazione comunemente utilizzati dagli immigrati possano diventare spazi sociali aperti, dedicati all'incontro e alla conoscenza reciproca. Oppure pensate che alcuni spazi, alcuni edifici abbandonati possano diventare la sede di associazioni di immigrati o di associazioni che si occupano di immigrazioni e che esistono nelle nostre città. In questo modo possono essere riconoscibili e possano garantire a tutti un livello di maggiore essere serenità. Perché io sono convinta che quando vedete una ventina di persone la domenica entrare in una chiesa, voi siete sereni e siete sereni del fatto che quelle persone vanno a pregare. Se voi vedete cinque volte al giorno, venti, trenta persone entrare in uno scantinato e non sapete quello che fanno, non siete sicuri. Se sapete che esiste un luogo in cui quelle persone possono andare a pregare, voi siete più sicuri e anche le persone che vanno a pregare possono essere più sicuri e serene. Ecco, questo perché? Perché esistono determinate caratteristiche del vivere insieme. La condivisione, l'aggregazione, la possibilità di riconoscersi, la possibilità di convivere. Sono tutti termini che declinano il concetto di cittadinanza. E anche se è lo Stato che determina le regole per l'accesso alla cittadinanza, le città e le istituzioni locali possono avere un ruolo determinante per attivare i processi di partecipazione attiva di tutti i cittadini, inclusi anche gli immigrati. Vi faccio un esempio di partecipazione attiva, un altro piccolo aneddoto. Esiste un quartiere a Milano che ha suscitato da sempre la mia curiosità, Porta Venezia, che oltre ad essere uno dei luoghi raccontati anche nei promessi sposi, è conosciuto come il quartiere africano di Milano. Ebbene nel 2013 il confine a sud del Mediterraneo si era spostato nelle strade di quel quartiere. All'inizio, quando sono arrivati i primi gruppi di migranti dal sud Italia, il quartiere è diventato, un pezzo del quartiere è diventato una centrale operativa di primo soccorso, in cui era disponibile tutto, dai vestiti al cibo ai medicinali, ed era tutto gestito dai migrati eritrei e etiopici, che erano arrivati prima 20, 30, 40 anni e che da quegli anni lì risiedevano o avevano attività economiche. Nel momento in cui le persone sono diventate 300, 400, questo equilibrio ha un po' vacillato. E soprattutto le difficoltà che generavano un numero così grande di persone nelle strade. Perché li fate venire qui? Questo è un quartiere residenziale, non è un campo profughi. Voi ci guadagnate qualche cosa. Ecco, io non lo so chi ci guadagni meno o di più, però so una cosa, che la domanda che interessa pormi è un'altra ed è la domanda che vorrei porre anche a voi. Come possiamo guadagnarci tutti, senza perdere la capacità di distinguere e senza perdere la capacità di dare valore alla solidarietà? Ecco, secondo me l'esempio di Porta Venezia racconta di una risorsa, di una risorsa in termini relazionali, che spesso è contenuta esclusivamente nelle dinamiche delle comunità straniere. Ecco, quelle risorse, la qualità di quelle risorse potrebbe diventare patrimonio comune, essere integrata in un sistema di accoglienza che coinvolga tutta la città, in modo che questo coinvolgimento, questa partecipazione riconosciuta possa attivare processi di reinvenzione dell'identità, perché le identità sono in continuo mutamento. E poi un'altra cosa, un'altra piccola cosa, giusto per portare una riflessione su un'altra risorsa. Voi sapete quanto vale in termini di ricchezza il lavoro degli stranieri oggi in Italia? 127 miliardi, secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Moressa. E le rimesse? Secondo Banca Italia, le rimesse negli ultimi dieci anni hanno più che raddoppiato il valore della finanziaria del 2016. 64 miliardi. Ecco, immaginate che quel sentimento che spinge le persone alla condivisione, l'appartenenza, possa essere il motore per cui si istituiscano anche strumenti finanziari. Non so, proviamo a chiamarlo Fondo Sociale di Investimento Urbano, dedicato all'inclusione sociale, a compartecipazione mista, cittadini e istituzioni, pubbliche e private, cittadini italiani e cittadini immigrati ovviamente. Ecco, quello strumento insieme ad altri strumenti, insieme o da soli in precisi contesti diversi, vi dicevo la segnaletica, la tecnologia per la comunicazione, gli operatori transculturali, spazi dedicati, campagne di ascolto, fondi per l'investimento sociale nelle città. Ecco, quegli strumenti possono rappresentare le risorse per costruire la convivenza e forse così possiamo guadagnarci tutti.